Bene, oggi in questo nuovo video andremo a vedere il recall. Il recall è uno dei primi addestramenti che si mette in atto con il nostro pappagallo e consiste nel richiamare il pappagallo a noi e quindi farlo venire da noi. Infatti il recall è il termine inglese e in italiano si dice il richiamo. È un esercizio non molto complesso, soprattutto se si è già molto forte, quindi molto preparati sul target, che vi consiglio di andare a vedere, vi lascio il video qua sopra in alto. Quindi io vi consiglio di imparare prima il target e poi il recall perché una base di target ci servirà e quindi sarà molto più veloce adesso poi andare sul recall. Quindi anche qua andrò a dividirlo in tre step che è molto più semplice da capire e quindi anche da mettere in atto per voi. Il primo step consiste nell'imparare sempre in termini inglesi lo step up, ovvero di far salire il vostro pappagallo sopra la vostra mano. Non ho voluto fare un video a parte perché non ha tanto senso visto che lo andremo a imparare direttamente, quindi insegnando i recalls, quindi non è che hanno bisogno proprio di un video a parte. Però è un elemento molto importante quindi anche per l'addestramento del vostro pappagallo perché non è scontato che far salire il pappagallo sopra la nostra mano, soprattutto farlo nel modo corretto. Nel secondo step invece andremo a togliere, quindi andremo a eliminare la visione del vostro pappagallo e della ricompensa e andremo quindi a introdurre invece il gesto e anche la parola che serve quindi ad incentivare il vostro pappagallo a venire da voi. Io utilizzo ad esempio la mano, il fa di aprire, quindi di venire e la parola vieni per richiamarlo a me. Uno può utilizzare il nome, potete utilizzare quello che volete. L'importanza mi serve quindi gesto e parola per rafforzare ancora di più l'apprendimento. Il terzo step consiste, quando avessi superato questi due perfettamente, il terzo step consiste nell'aumentare le distanze e quindi far capire quindi al vostro pappagallo che dovrà fare anche dei voli più lunghi e quindi li richiamo anche a distanza. Quindi adesso basta con le chiacchiere, andiamo subito a vedere quindi mi imbramo tutto e andiamo a vedere quindi l'esecuzione e il tutorial vero e proprio del recall sul trisforo. Andiamo subito. Bene, partiamo con il primo step che consiste nel far salire il vostro pappagallo sopra la vostra mano. Quindi primo step, far vedere quindi la ricompensa al pappagallo e farlo salire sopra la vostra mano. Bravo. Primo step molto semplice perché naturalmente il vostro pappagallo vedrà la ricompensa e sarà incentivato a salire subito. Vedete? Bravo. Primo step molto semplice. Una volta che hai imparato, vado a venire senza fargli vedere la ricompensa. Potete in questo secondo step aggiungere anche il fattore, quindi il gesto della mano e magari la voce. Vieni? Bravo. Questo servirà ad incentivare naturalmente il richiamo, mettendo quindi il fattore voce e movimento della mano. Ultimo step è il fattore distanza. Aumentare la distanza. Aumentando la distanza capirà che... Vieni? Che le distanze possono aumentare e quindi il vostro pappagallo imparerà a venire al vostro richiamo anche da più lontano. Quindi l'ultimo step è aumentare sempre più la distanza e vedrete che se ha capito il pappagallo tornerà. Vieni? Bravo. Bravissimo. Che sentite? Il rumore è strano. Passa a te. Il consiglio che vi do è... Vieni? Vieni? E' di premiare il vostro pappagallo soltanto quando viene da voi dopo che lo avete chiamato. Quindi quando volete voi. E non dare il premio semplicemente quando il pappagallo ad esempio vi sale sulla spalla o sulla testa. Questo perché se no il pappagallo capirà di venire... Che otterrà il premio sempre. In qualsiasi momento. Noi invece vogliamo ottenere che il pappagallo venga da noi quando è chiamato. Vieni? Così. Parti. Quindi rifiutiamo. Primo step. Fa salire il pappagallo sulla propria mano. Secondo step. Fallo salire... Quando... Anche senza farli vedere un penza. Terzo step. Vieni? Aumentare la distanza. Eh, ti è cascato. Vai. E questo era il video del Recool. Quindi questo era il tutorial del Recool. Non è molto difficile. Alla fine da far vedere, da far capire non è difficile. Non so, passaggi complicati. Solo richiede un po' di tempo, quindi un po' di pazienza. Ma vedrete poi i risultati verranno molto velocemente in realtà. Quello che vuole far capire, quindi il messaggio che vuole far capire ora in questa ultima parte del video, è la differenza tra il Recool, quindi tra il richiamo, e il volo libero, il free flying. Se il vostro pagallo impara il Recool, quindi avvenire voi al vostro richiamo, non vuol dire che è pronto per fare il volo libero, che è quindi tutta un'altra cosa. Il Recool serve naturalmente come base, poi il futuro per il volo libero, che comunque è la base assoluta. Però naturalmente non basta per il volo libero, perché quello è tutto un altro mondo. Perché al di fuori del muro di casa c'è tante altre problematiche, tante altre difficoltà. Con il Recool assolutamente non portare il vostro pagallo fuori, quindi con la sicurezza il vostro pagallo torna. Quindi il Recool non è il volo libero. Il Recool assolutamente potrebbe... Il Recool può essere utilizzato in caso di necessità, in cui il vostro pagallo scappa, o in qualsiasi situazione il pagallo si trovi all'esterno. Il Recool può essere utilizzato sì, in caso di necessità, ad esempio se il vostro pagallo è scappato, lì sì che si può utilizzare il Recool per provare, quindi a farlo tornare da noi, ad esempio se è su un albero o non lo so. Quindi imparate il Recool, vedete se le soddisfazioni arriveranno, e sarà molto divertente poi. Mi raccomando di dare le ricompense soltanto quando viene da voi, quindi al vostro richiamo, e non tutte le volte che viene da voi, ad esempio anche se non l'avete interpellato. Questo perché sennò fa pagato un... non capirà che c'è quella... non associerà la parola vostra, quindi il vostro comando, al fatto che deve venire. Quindi date la ricompensa soltanto quando l'addestrate, quindi al Recool, e tutte le volte viene chiamato con l'intento del Recool. Niente, se questa modalità vi piace, continuate a supportarmi qua sotto nei commenti, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, e spero vi possa essere utile, addestrate i vostri propagandoli di Recchietti Iniziano a Dora. Ciao a tutti e al prossimo video.